Filippo, che capi cosa mi riserva il destino? Si aprono i cieli per me. Mamma, l'è strano. Ti ho avuto agli, eh? Eh, mamma. Ado che me ne scrivi il bel ciale tonte, è il mio che non sto a trovare. Quanto, l'è strano perché il che è ingerizzato adesso è per te che non ha visto il seno del cancro. Il che è ingerizzato per te che non ha visto il seno del cancro. Allora, il che è ingerizzato per me che non ho visto il seno del cancro. E va bene. Il che è ingerizzato per te che non ha visto il seno del cancro. Filippo, allora che mi ha scritto il mio nome? Chi che ha l'espa prima è il laterino rosa. Quanto, che io voglio capire. C'è il che è ingerizzato per me che mi ha trovato l'astrazione. No. No? Fino adesso ho trovato l'astrazione. E... Giù... L'è morto perché è fermato il cuore. Ah, sì? Quanto certo, il cuore. E il secondo è scappato perché è fermato il coraggio. E il terzo... L'ho... Lo fermo a me perché l'evo sa sposa. E adesso ho un spasronico. Dice il mio definitivo grande amore. Ma non c'è. Tu hai stato sputtinato a me. Eccoci. Tu è pronto. Grazie, Sina. Come te menti te? Che cavolo. Tu è pronto. Vado. Biciri. Grappi. Conali. Chi. Massali. Tu parli. Tu parli. Tu parli. Tu parli. Tu parli. Tu parli.